...che non ci sia odio. Spero che... Giusto in tempo per augurarmi buon viaggio. Cercherò un altro posto in quella direzione. C'è più vegetazione, alberi da frutto. Perfino i fiori. È una specie di... Sembra un giardino. Cercherò di vivere lì. Ti è che... Oto... Ti... Uar. Sì, puoi venire. Certo che puoi venire. Cercheremo di sopravvivere insieme. Non so come, ma almeno proviamoci. Dobbiamo imparare a comunicare. Facciamo una prova. Tu come la chiami? Nella tua lingua, capito? Mangiare? No. No, non si mangia. Non è cibo. No. Te... Te... Terra. Te... Terra. Terra. Ora questo posto ha un nome. D'accordo. Lo chiameremo Terra. Terra. Cooke. Cooke. Adamo. Cooke. Adamo. Cooke. Norda. Norda. Eva. Bene, Eva. Ce l'avevano portata via, ma ce la riprendiamo. Questa è casa nostra. È la Terra. Questa è la Terra. Ma ce l'avevano portata via, ma ce la riprende. Ma ce l'avevano portata via, ma ce l'avevano portata via, ma ce l'avevano portata via. Il tuo cibo è di questo che vivi. Che cos'è? Mangiare. Cibo. Conoscete queste persone? I loro nomi vi sono familiari, non è vero? Sono vissute molto tempo fa Forse fanno parte della leggenda Forse fanno parte della fantasia E forse il posto in cui stanno andando ora non si chiama davvero Eden Possiamo anche crederlo Siamo ai confini della realtà